Vantaggio per 1-0 in virtù del gol di Daniel Abessa al 38esimo. Apertura per Alborno, controllo da parte del paraguaiano. Mette giù Rodrigo, si fa vedere Livaia, riceve palla il croato. Ottimo il pallone di ritorno per Alborno, ancora Alborno, fa fuori un avversario e viene messo giù. E stavolta c'è il calcio di punizione comandato dal direttore di gara tra le proteste dei veronesi. Col mancino il paraguaiano va a crossare sul primo palo il colpo di testa! E c'è il gol da parte di Spendloffer che trova il suo secondo centro stagionale dopo quello con la regina a Via Reggio. Il primo in campionato, perfetta la punizione di Alborno, perfetto il terzo tempo dell'austriaco, Lukas Spendloffer. Qui rivediamo perfetta davvero l'esecuzione Inter che mette la partita in ghiaccio al quinto della ripresa. Il 2-0 fermato da Lukas Spendloffer. Palla per la crisetta.